Salve, sono Angela Leone della Beable ed oggi vedremo insieme come creare un nuovo account nell'amministrazione di Zimbra. Buona visione! Adesso andremo insieme a vedere come creare un nuovo account nell'amministrazione di Zimbra. Quindi accediamo a Zimbra da un qualsiasi browser inserendo l'indirizzo IP in HTTPS sulla porta 7071 e inseriamo la login e la password. Una volta avuto accesso al pannello di controllo andiamo nella sezione Account, Nuovo e inseriamo il nome account, il nome e la password. e impostazione del fuso orario. Scegliamo Avanti e in questa area possiamo definire le informazioni aggiuntive del contatto, nell'area successiva definire un alias o delle impostazioni di inoltro. Successivamente possiamo attivare funzioni aggiuntive, quindi l'invio della posta posticipato oppure abilitare o meno determinati moduli tipo rubrica, agenda e così via. Possiamo settare eventuali preferenze, anche se la maggior parte di queste sono visibili anche nell'area del pannello utente di Zimbra, quindi è possibile impostarle anche in un secondo momento. Scegliamo nuovamente Avanti e andiamo a definire eventualmente i temi, quindi l'aspetto grafico di Zimbra. Infine andiamo a abilitare o disabilitare alcuni Zimlet e definiamo alcune impostazioni avanzate. Clicchiamo su Fine e salviamo l'account creato. Grazie a tutti.